Buongiorno, ben trovati, sono le 7 e una manciata di secondi e noi siamo qui come tutte le mattine in diretta per fare questa operazione di sorvolo sui giornali, sulle notizie principali. Apriamo le pagine dei giornali, il resto del Calino e il Corriere Adriatico in formato digitale naturalmente però facciamo questo sorvolo sulle notizie principali, naturalmente all'interno dei giornali ce ne sono molte di più noi vi facciamo vedere quelle principali, insomma di grande rilievo, di maggior rilievo però noi guardiamo anche il calendario, vediamo che cosa ci dice l'almanacco del giorno e anche le previsioni del tempo quindi partiamo dall'almanacco, dal calendario, martedì 5 novembre, San Guido Maria Conforti il sole è sorto alle 6 e 48 e tramonterà alle 16 e 55 il tempo, guardiamo che cosa ci aspetta per oggi e le giornate a venire, c'ero parzialmente nuvoloso con nubi stratificate e olografiche per maggiori addensamenti cumuliformi però sui rilievi appennini, questo è per la giornata di oggi ma tutto questo nel pomeriggio se è possibile avrà anche un aumento della nuvolosità quindi insomma le precipitazioni saranno presenti sui rilievi collinari e sui rilievi montani anche a carattere di rovescio e di temporale, in particolare però nel pomeriggio anche occasionali fenomeni sulla fascia collinare e costiera come vedete un po' dalla grafica, quindi una giornata all'insegna della variabilità con possibilità anche di qualche piovasco le temperature però sono in aumento, perlomeno le massime per domani, almeno sulla costa e sul nostro settore il sole dovrebbe essere preponderante rispetto alla nuvolosità però permane questa situazione un po' a macchia di leopardo su tutta la regione come vedete, quindi inizialmente il cielo sarà sereno, poco nuvoloso però ha densamenti a ridosso dei rilievi nel corso della giornata anche qui le precipitazioni a carattere sparso principalmente nei rilievi e nel primo pomeriggio che però potranno interessare anche nel corso della giornata il resto delle altre zone della regione le temperature qui avranno una diminuzione quindi scenderanno di qualche millimetro di mercurio nelle previsioni di giovedì invece si, almeno sulla carta si va verso il bello, il tempo stabile quindi il cielo sarà sereno, poco nuvoloso non ci saranno precipitazioni e quindi perlomeno da metà settimana in poi ci sarà una condizione di stabilità stabilità che dovrebbe continuare per tutto il resto della settimana come vedete, condizioni stabili e soleggiate perlomeno fino all'inizio del fine settimana dopodiché si vedrà guardiamo le pagine dei giornali vi porto in apertura su quella di Ancora ma poi dopo entriamo nelle nostre pagine ed ora vediamo appunto la pagina di Ancora del resto del Carlino la cui fotonotizia recita e parla della scomparsa del diretto discendente del poeta Leopardi addio al conte Leopardi discendente del grande poeta aveva 77 anni ma poi si parla di degrado ed incuria si parla di monumenti monumenti nel cuore della cittadorica crolli nel silenzio dall'arco Clementino a porta Capoleoni fino ad arrivare agli scavi archeologici e quello che stride è il silenzio della sovrintendenza nelle pagine invece di Pesaro del resto del Carlino l'apertura è per un fatto di cronaca mi ha toccata scontro tra professori scattano le carte bollate una denuncia di una collega verso alcune attenzioni giudicate da lei eccessive e non gradite di un suo collega che il quale però si difende dice le ho appena sfiorato un piede questa la sua versione ma la fotonotizia è per una inaugurazione fantasma poi capiremo più nel dettaglio all'interno dell'articolo di che cosa si tratta si tratta di una struttura che non è mai partita una struttura sanitaria e poi quello che ha fatto il giro di tutti i social e fatto parlare nella giornata l'inseguimento in diretta via facebook dell'assessore Belloni a caccia di finte sorde nel Corriere Adriatico invece si parla di Villa Caprile l'apertura è per questa struttura scolastica che perde i pezzi e giustamente i docenti chiedono di intervenire molto prima l'ultimo distacco riguardato gli infissi e le finestre della storica limonaia la fotonotizia invece è per una variante che è stata approvata in consiglio comunale a Presaro per l'edificazione in via Solferino chiedo scusa di altre strutture alte quanto almeno quella dopo la vela arriva la torre in un'area ancora non utilizzata si realizzerà un complesso alto oltre 40 metri quindi insomma più o meno alto quanto la vela dell'ipercoppa passa il piano particolarizzato di iniziativa pubblica e quindi questo è il futuro della strada Villa Caprile ecco qua le foto come vedete lasciano poco all'immaginazione questo è lo stato in cui versano alcune parti dell'edificio per cui si dice appunto che sta perdendo i pezzi e dalla scuola arriva un grido di dolore e soprattutto anche una richiesta di interventi urgenti per evitare che le cose peggiorino ancora il distacco è accaduto a ottobre alla Limonaia con infissi che hanno ceduto e ora la direzione dell'Ustituto Agrario c'è che ha coinvolto soprintendenza e provincia e vedremo il da farsi campus ma anche al campus non si gode di salute migliore con l'abrodo termico tra cemento infissi e spifferi nonostante le migliorie apportate rimangono alcune criticità nelle auto nelle aule scusate fredde e con qualche difficoltà questo è l'allarme che arriva da studenti e genitori e quindi eccola qua la notizia del rilancio in prima pagina non solo la vela dell'Ipercop ma Torri Gemelle su via Sorferino un complesso di oltre 40 metri e quindi è approvata ieri in consiglio comunale la variante per l'edificazione dell'edificio sempre in via Sorferino e quindi ci sarà un'edificazione pari a quella in altezza della vela dell'Ipercop poi c'è politica si parla di politica nelle pagine del Corriere Adriatico sul doppio incarico alla Frenquellucci del Movimento 5 Stelle il segretario comunale chiarisce che il doppio ruolo è legittimo e quindi insomma la polemica innescata dalla Lega che chiedeva chiarimenti su questo doppio incarico quanto ha detto del segretario generale la richiesta di legittimità del doppio ruolo avanzata dall'opposizione è tutto a posto e quindi per i 5 Stelle ora la Lega deve chiedere scusa per quello che ha detto a questo riguardo ieri è stato il 4 novembre e quindi una ricorrenza celebrata in tutta Italia caserme aperte in particolare a Pesaro il reggimento Pavia il 28esimo reggimento Pavia ha aperto i suoi cancelli a studenti e autorità per mostrare quello che si fa anche in una missione di pace la Del Monte ha aperto le porte appunto in occasione di questa importante ricorrenza Villa Fastigi ecco dalla prima pagina della foto notizie che vi abbiamo fatto vedere inaugurazione fantasma perché si parla della RSA che è stata inaugurata con un taglio del nastro il 18 maggio ma poi tutto è caduto nell'oblio poi il nulla la struttura non è mai partita e tuttora è inattiva e allora nell'articolo Simona Spagnoli si fa anche una domanda e dice non è chiaro se siano stati ritardi degli addempimenti burocratici o se si sia voluto inaugurare a tutti i costi una struttura che non era pronta e va a rilento quindi l'iter per l'accreditamento il 31 ottobre poi c'è stato anche un primo sopralluogo ma ricordiamo da maggio ad oggi insomma di mesi ne sono passati si continua a parlare di sanità comunque anche nelle altre pagine si parla in particolare del nuovo ospedale la nuova struttura sanitaria unica che dovrebbe sorgere affare solo per i privati è un affare solo per i privati queste sono le considerazioni lanciate dai sindacati che attirano l'attenzione sulla procedura per avviare l'iter su muraglia anche dicono la presidenza del consiglio rileva dubbi sulla ripartizione dei costi e poi la segnalazione di un di un'elettrice ma è di un utente della sanità che dice la telefonata al cup è un'attesa senza fine invece se chiamiamo il privato tutto fila liscio eccolo qua l'assessore Belloni lo vedete in questa notizia da iperattivo da operaio dopo che si era fatto ritrarre nel cantiere dell'hangar a bordo di una ruspa adesso si lancia l'inseguimento anche di malfattori e truffatori e tutto in diretta dice lui si sono avvicinate a me non capendo che io ero comunque un'autorità pubblica e ho capito subito che in realtà sorde non erano e quindi mi sono lanciato all'inseguimento questo è un frame del video in diretta le ho inseguite insomma per tutto il centro e poi si sono infilate in una passatnera station wagon con targa romena dove c'erano due complici e si sono dati a gambe ho avvisato la polizia municipale e giustamente lui dice io ho fatto tutto questo perché voglio lanciare un allarme un'attenzione su tutti su questo aspetto e che non è la prima volta che gli capita tra l'altro ed eccolo qui l'articolo di apertura la prof lancia le accuse sullo collega mi ha toccato un piede lettera denuncia direzione scolastica regionale di una docente cinquantenne ai riguardi di un suo collega fanese accusato di stalking e molestie a una collega di qualche anno più grande ma l'interessato tra lo stupito e anche così un po' l'allarmato dice ma qui siamo su scherzi a parte insomma dopo leggete l'articolo e capirete il tono del suo commento andiamo nelle pagine che riguardano Fano partiamo dal Corriere Adriatico Raffaello architetto il tema per una mostra prestigiosa Paolo Clini rilancia il legame con Vitruvio dopo appunto la bella mostra su Leonardo e Vitruvio che ha avuto grande risonanza a livello mondiale e ha tirato a Fano migliaia di visitatori per vedere questo aggancio questo legame tra colui che ha fatto dell'architettura il trattato più importante e il genio leonardesco ed ora naturalmente per i 500 anni di Raffaello si vuole trovare giustamente anche il legame con Raffaello perché tutto sembra avere un Firrugi che tiene unito tutti e quindi Paolo Clini dice giustamente Fano ha tutte le carte in regola e l'autorevolezza per fare un'operazione di questo tipo per quanto riguarda la formazione online naturalmente c'è un progetto che si chiama Workout è stato presentato ieri alla Memo per cui diventa più facile arrivare al termine dei corsi perché c'è anche un facilitatore che segue una sorta di tutor e quindi più efficace la formazione online se fatta in gruppo ieri come vedete la presentazione del progetto ieri mattina alla Memo e nel resto del Carlino si riprende la notizia che vi abbiamo anche fatto vedere ieri con le testimonianze in diretta di atleti genitori alquanto sul piede di guerra per quanto riguarda la situazione della palestra a Cucurano che è un colabrodo ma non è soltanto un esercizio letterale definirla così è veramente un colabrodo con secchi sparsi su tutto il campo per arginare la pioggia e le gocce che vengono giù dal tetto e quindi insomma le atlete i ragazzi dell'Olimpia Cucurano insomma cercano di capire se questa situazione può avere una risoluzione a breve e quindi tra questi c'è anche appunto Nicolelli il presidente dell'Olimpia che chiede appunto che alla giunta qualcosa si muova in tempi molto brevi atti vandalici alla rocca malatestiana ecco qua ricompaiono le scritte oscene e anche quattro fari che illuminano la struttura dal basso di notte sono stati danneggiati ora Aset S.p.a. chiama regresso Arti come in altre occasioni i quali con le strutture adeguate a loro disposizione potranno ripulire le mura come è avvenuto anche su quelle romane e sui bastioni e la bastione Sangallo e per il canale Albani ora si apre una operazione nuova perché renderà la pariglia nel senso che adesso una volta che è stato rimesso in sesto farà da albergo ospiterà le anatre scampate a una strage nel comune di Ravenna e quindi il comune di Ravenna ha accettato l'ampello lanciato dall'osi faunistica presieduta dall'agronoma Giuseppe Curino che vedete qui nella foto proprio sul ponticello del canale Albani fra due settimane ci sarà una riunione in Romagna per stabilire il protocollo di intesa e quindi arriveranno ospiti del canale Albani questi scampati anati dal comune di Ravenna ancora nelle pagine che riguardano l'interno del nostro territorio andiamo a Cartoceto perché domenica sotto la pioggia ormai è diventato un'abitudine tagliare il nastro a Cartoceto sotto la pioggia per la Cartoceto dopo il festival olio di qualità che naturalmente è protagonista in piazza lo è stato questo fine settimana e lo sarà anche il prossimo il clima fa crescere un po' il prezzo perché insomma le rese sono un po' basse comunque nonostante tutto la qualità è alta e quindi insomma inaugurazione d'effetto anche per la presenza di una bellissima gondola una gondola una vera gondola una gondola proprio non in scala ridotta ma una gondola che ha navigato nei canali veneziani portata appunto in piazza per questa manifestazione perché c'è uno stretto legame tra venezia e cartoceto leggendo l'articolo capirete anche il perché nuove assunzioni in comune siamo a pergola sono stati assunti stipulati due contratti a due impiegati e altrettanti operai ora c'è perché c'era una carenza organizzativa ora dice la sindaca simona guidarelli la macchina comunale è più efficiente da Urbino le ultime due pagine che vi faccio vedere riguardano la città Ducale chi dice chi diceva insomma che con la cultura non si mangia in realtà se la cultura viene gestita e convogliata bene ci si mangia e come guardate i numeri che ha fatto Urbino in questo ponte di Ogni Santi il record di visitatori città stracolma anche se il tempo non era bello come vedete dalle foto però insomma code chilometriche chilometriche no ma quasi per tutto il porticato per visitare il bellissimo palazzo Ducale di altro tono la pagina di Urbino del Corriere Adriatico c'è la cronaca una cronaca fortunatamente finita bene perché un cavatore di tartuffi scivola giù per un dirupo di 15 metri compice anche la pioggia e il terreno reso umido e scivoloso però va giù per 15 metri ingannato da un pendio siamo a Morciola di Urbino e ai vigili del fuoco ci sono volute due ore di lavoro per tirarlo fuori dal cul de sac dove si era infilato vi faccio vedere le pagine di apertura come sempre in termine di rassegna stampa apriamo la pagina di Ancona del resto del Carlino dove viene data la notizia della scomparsa della morte del conte Leopardi era il discendente diretto del grande poeta aveva 77 anni ma si parla anche di monumenti monumenti che non godono di buona salute dall'arco Clementino a Porta Capoleoni fino agli scavi archeologici crolli nel silenzio questo è il titolo e la sovrintendenza purtroppo tace nelle pagine che riguardano la provincia di Pesaro mi ha toccata scontro tra professore una docente denuncia un collega per attenzioni eccessive ma lui si difende dice ho appena sfiorato un piede e poi la fotonotizia per questa inaugurazione fantasma una RSA Villa Fastigi taglio del nastro a maggio ma a tuttora siamo agli inizi di novembre ferma lì con le 4-3 frecce come si dice non è funzionante campanello staccato insomma si cerca di capire il perché di questa ritardata partenza e poi l'inseguimento di Belloni in centro a caccia di due finte sorde di due truffatrici inseguite per tutto il centro dall'assessore e nella pagina invece del Corriere Adriatico l'apertura è per Villa Caprile che insomma perde i pezzi la scuola dove c'è l'Istituto Agrario Cecchi ha delle strutture degli infissi che vengono giù e quindi la scuola chiede un intervento urgente e poi via Sorferino dopo la vela dell'Ipercoppa alta 40 metri arriveranno due altre strutture altrettanto alte strutture gemelle due edifici e quindi dopo la vela arriveranno anche le torri in comune è stato passato il piano particolareggiato e quindi via al via l'iniziativa pubblica bene questo era quanto per la Rassiena Stampa di oggi notizie principali naturalmente che abbiamo visto sul resto del Carlino e Corriere Adriatico questo che vedete farà un po' comparire è il numero a vostra disposizione per entrare in contatto con la nostra redazione per farci le vostre segnalazioni insomma per utilizzarlo per entrare in contatto con noi e quindi non mi rimane altro che augurarvi un buon proseguimento di giornata e questa sera naturalmente alle 20 e 30 occhio alla notizia arrivederci buon proseguimento di giornata a